Iechetti le vacanze sono finite, adesso deve ricominciare a lavorare? Eh sì dai, da lunedì ricominciamo, lunedì nomino la giunta che è la stessa, ve lo dico già in anteprima, da martedì se facciamo in temo convocherò la prima giunta, ritorneremo operativi in pieno, è logico non è facile recuperare questi 4-5 mesi ma ci metteremo tutto il nostro impegno. Con 23 voti a favore possiamo dire che è uscito dalla finestra e è rientrato dalla porta? Se vogliamo usare questo termine va bene, diciamo che questo è stato un gran bel gioco anche a livello di partito, di assemblea, di delegati, che abbiamo scelto questa strada, diciamo, di questa nomina del Comune di Tossicia, perché io adesso rappresento il Comune di Tossicia, devo ringraziare il sindaco d'Arquino, la sua amministrazione, il partito di Tossicia e tantissimi abitanti del Comune di Tossicia, perché altrimenti dovevo fare un ulteriore ricorso, perdevamo tempo e passava il mese di luglio e agosto che l'ente non funzionava. Giustamente abbiamo fatto anche una scelta insieme, devo dire grazie al partito, ma non soltanto al mio partito, ma anche altre componenti di centro-destra, che hanno capito l'utilità e il valore aggiunto di questo ente, che è un ente che qualcuno dice che bisogna chiudere, qualcun altro no, ma io dico guai perdendo questo ente, perché è l'unico ente che ha questa possibilità di ingassare questi soldi tramite i privati. Grazie.